La nostra regione è interessata da una circolazione debolmente ciclonica che insiste sul Mediterraneo orientale e che determina condizioni di tempo variabile in un contesto termico in linea con la media del periodo. La stabilità che ha caratterizzato l'inizio del nuovo anno possiamo ormai archiviarla poiché l'alta pressione almeno nel breve e medio termine non è intenzionata ad interessare la nostra penisola, anzi sul finire di questa settimana si espanderà verso le isole britanniche favorendo la discesa di correnti fredde fin sul bacino del Mediterraneo. In particolare un vortice depressionario colmo di aria molto fredda in quota dall'Islanda raggiungerà la nostra penisola nella giornata di domenica determinando un sensibile peggioramento con precipitazioni diffuse e nevicate inizialmente in montagna ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Domani sabato 8 gennaio condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sul medio e basso cilento e la dorsale appenninica dove non si escludono brevi ed isolati piovaschi, possibili spruzzati di neve in montagna al di sopra dei 1300-1400 metri, temperature lieve diminuzione, venti tra deboli e moderati da nord-est e mare poco mosso. Domenica 9 cielo da poco nuvoloso a nuvoloso con tendenza ad ulteriore aumento della nuvolosità dal pomeriggio con associate precipitazioni. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi nel corso della serata assumendo carattere di rovescio, nevicate in montagna inizialmente al di sopra dei 1200-1300 metri ma con limite della quota neve in rapido calo fino a raggiungere i 600-700 metri nel corso della notte. Temperature insensibili e diminuzione dal pomeriggio, venti da moderati a forti da ovest con tendenza a disporsi da nord dalla serata, mare molto mosso o agitato. Lunedì l'aria fredda colpirà in pieno la nostra regione e sarà accompagnata da precipitazioni che potrebbero risultare anche abbondanti in modo particolare sul Vallo di Diano e il settore orientale della catena peninica. Su questi settori i fenomeni assumeranno carattere nevoso a quote collinari con probabili accumuli al suolo. Temperature in ulteriore diminuzione, venti tra moderati e forti da nord-est e mare mosso. Martedì la depressione si allontanerà verso la Grecia e sulla nostra regione insisteranno sostenute correnti nord-orientali che manterranno le temperature al di sotto della media del periodo per gran parte della settimana. Tuttavia cesseranno le precipitazioni. Per maggiori dettagli, come sempre, invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.